Buongiorno alle percussioni per un altro brano dei Rolling Stones. Un applauso a Nicola Briganti! Come va? Bene? Si ma vogliamo sentirti. Va bene? Si! Va bene? Si! Si tiene quasi. Un applauso a Nicola Briganti Un applauso a Nicola Briganti Un applauso a Nicola Briganti Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Thank you. Yeah. 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 Grazie